E' stato raggiunto l'accordo sul testo che verrà firmato domani mattina per ragioni di fuso orario con l'India tra il gruppo Cevital e il gruppo Gindal per la cessione delle quote di Aferpi, che come voi sapete sono le acciaierie ex Lucchini di Piombino. E' previsto il closing, cioè la chiusura dell'operazione e il passaggio entro la fine del mese di marzo e ovviamente da adesso in poi la due diligence che però avrà un tempo molto ristretto proprio per dare il massimo della continuità alla gestione. Siamo soddisfatti, anche se come sempre in questi casi bisogna essere prudenti e vedere passo dopo passo come va, come andrà, come si finalizzerà l'accordo e poi ovviamente inizierà una discussione sul piano industriale. Ricordo che l'amministrazione straordinaria e dunque il governo hanno comunque il potere di approvazione o meno dell'accordo finale e quindi continueranno la sorveglianza insieme alla regione toscana con cui abbiamo anche in questo caso molto ben collaborato e che è interessata sia da un accordo di programma sia da una serie di supporti finanziari che ha messo a disposizione prima di Cevital, di Aferpi e quindi prima di Cevital e oggi e domani di Gindal. Grazie.